Ed è un fatto che l'accordo di Villafranca nel luglio del 1859, con la mappa che esso pretese di disegnare per un'Italia confederale sotto diverse insegne, rappresentò per Cavour un punto di rottura. L'accettare come traguardo invalicabile un Regno dell'Alta Italia, sia pure ben più esteso del Regno sardo piemontese, destinato a essere chiuso in una morsa da sfavorevoli condizioni internazionali, gli apparve troppo lontano dall'ideale di un'Italia unita. È un fatto che a quel punto Cavour si identificò totalmente con la causa italiana e affrontò tutte le incognite dell'impresa garibaldina e del rapporto con un garibaldi la cui figura ormai giganteggiava. Incognite da Cavour padroneggiate, pur tra manifeste difficoltà e tensioni anche con il sovrano, senza perdere la guida del processo nazionale unitario. Fu tenuto ben saldo l'asse di una egemonia moderata, ancorata ad una visione liberale ed europea del nuovo Stato da costruire e in pari tempo divenne sempre più chiaro a Cavour che, come gli scrisse nel giugno 1860 a Emanuele d'Azeglio, solo l'unità poteva, al punto cui erano giunte le cose in Italia, garantire alla penisola l'indipendenza e la libertà. Non ci si dedichi dunque il mio consiglio, in vista del centocinquantenario, a esercizi improbabili, per non dire campati in aria, di nostalgismo meridional borbonico o di cavurrismo immaginario, nell'idoleggiamento di un presunto Cavour chiuso in un orizzonte nordista e travolto nolente dalla liberazione del Mezzogiorno. Riconosciamoci tutti nell'esito esaltante del Movimento per l'Unità d'Italia, condizione premessa dell'ingresso del nostro Paese nell'Europa moderna e del suo successivo trasformarsi e svilupparsi. E di questa consapevolezza storica unitaria facciamo il solido e essenziale riferimento per garantire la coesione della nostra società e del nostro Stato nel contesto sempre più impegnativo dell'integrazione europea e della globalizzazione. Ciò implica un nuovo grande sforzo culturale e educativo. Benvengano ricerche e confronti, iniziative nelle scuole e impulsi comunicativi che contribuiscano anche a popolare la scena del Movimento per l'Unità d'Italia e della conquista dell'unità, non di santini, ma di figure vive, a cominciare da quella di Cavour, nella pienezza del suo genio e del suo carattere, dei suoi umori e tormenti, delle sue passioni. E di Cavour si trasmetta sempre di più, specialmente qui a Torino e in Piemonte, l'esperienza di riformatore liberale che non deve essere offuscata dal ruolo preminente poi assunto sulla scena nazionale e sulla scena politico-diplomatica europea. A quello sforzo culturale, educativo, comunicativo e a quella stessa consapevolezza storica unitaria che ho appena invocato, deve ugualmente accompagnarsi una cruda individuazione ed analisi dei vizi d'origine del nostro Stato unitario, di debolezze e contraddizioni da cui sono scaturiti in diversi periodi pesanti fenomeni degenerativi, di nodi ancora da sciogliere per poterci porre come società e come Stato nazionale in condizione di competere e progredire nell'Europa e nel mondo di oggi e di domani. Unità nazionale e coesione sociale non significano centralismo e burocratismo, non significano mortificazione delle autonomie, delle diversità e delle ragioni di contrasto e confronto sociale e politico. Unità e coesione possono anzi crescere solo con riforme e loro conseguenti attuazioni, con indirizzi di governo a tutti i livelli, con comportamenti collettivi, civili e morali che siano capaci di rinnovare la società e lo Stato, mirando in special modo ad avvicinare nord e sud ad attenuare il divario che continua a separarli. Rivolgendoci a un passato che merita di essere celebrato senza vacuità retoriche e senza autolesionismi, guardando avanti con saggezza ma senza conservatorismi al cammino da compiere, le celebrazioni del centocinquantenario ci appaiono davvero una grande occasione da cogliere nell'interesse comune dell'Italia e degli italiani. Grazie.